Musica Nuovo appuntamento con le notizie di oggi a nord-est. Sono 992 i tamponi rilevati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia con un incremento di 62 casi, 10 invece i decessi in più rispetto all'ultima comunicazione che portano a 64 il numero complessivo di morti con Covid-19 in regione. Il numero più alto è quello registrato nell'area Trieste-Gorizia con 41 decessi seguito da Udine 18 e Pordenone 5. Lo rende noto il vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega della salute e protezione civile Riccardo Riccardi. Il numero di persone resta stabile, si legge in una nota della regione pari a 49 casi, il numero di persone che attualmente si trovano in terapia intensiva mentre i pazienti ricoverati in altri reparti sono 195. I positivi in Veneto salgono quest'oggi a 6.442 con una crescita di 373 casi rispetto a ieri sera. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.159. Quanti pazienti ricoverati? 1.407. Sono in area non critica con più 81. 316 in terapia intensiva, più 2. I dimessi sono 439 e i decessi 258, più 21. Nuovo caso nel cluster di Vaux. Aumentano in particolare i casi nelle province di Padova, più 137, Treviso, più 75 e Verona, più 68. Il Consiglio dei Ministri ha approvato nuove sanzioni più severe, multe fino a 3.000 euro, il massimo fino ad oggi era di 206 euro, per scoraggiare i ribelli dei divieti. Una stretta motivata anche dal numero ancora elevato di denunciati, 10.000 ieri, 107.000 complessivamente dall'entrata in vigore delle misure per contenere la diffusione del virus. Non c'è il fermo amministrativo dell'auto, qualora il trasgressore delle regole dovesse essere fermato e subire la multa, ha precisato il premier Giuseppe Conte durante una conferenza stampa al termine del CDM che ha dato via libera alle sanzioni contro chi non rispetta le norme anticontagio. C'è una multa da 400 euro e 3.000 euro, ma qualora la violazione fosse compiuta con un veicolo, la sanzione verrebbe aumentata fino ad un terzo. Il Presidente del Consiglio ha anche negato ipotesi di estensioni delle restrizioni al 31 luglio, come era circolato in seguito alle anticipazioni della bozza pubblicata in mattinata. Ed ora diamo la linea alla redazione di Treviso. A Treviso con il coronavirus la paura diventa rabbia e caccia all'untore, prima sui social, poi dalle finestre, insomma minacce a chi porta fuori cane in campagna, un flash mob per tirare con la fionda ai runner. Coronavirus scomparso, storico commerciante di ricambi d'auto, Ugo Trifoglio conosciutissimo, a Treviso aveva 83 anni, e lunedì si è spento all'ospedale Caffoncello, dove si trovava ricoverato da alcuni giorni. Dal 1951 al 2013 aveva gestito il negozio di via Terraio, prima della pensione. Coronavirus, l'attività ambulatoriale differibile dell'URSS-2, sospesa l'obiettivo di questa misura, rafforzare ulteriormente sia la tutela dei cittadini che la sicurezza degli operatori sanitari per l'emergenza sanitaria in corso. Coronavirus e solidarietà, il Comune dona camici e presidi sanitari all'ospedale, il sindaco di Castelfranco Veneto ha detto trovo molta solidarietà nella gente e nelle aziende in questo difficile momento e ritengo questo sia il miglior sprono per ognuno di noi. Lascia le uova per i genitori fuori dalla porta, i ladri gliele rubano la denuncia di una residente a Vittorio Veneto. Il furto è avvenuto martedì 24 marzo in mattinata. Le uova erano state lasciate fuori dalla porta per non mettere a rischio i genitori. Rosario Moreno, Treviso per Radiodiffusione Europea. Io amo il friuli Venezia Giulia, io resto a casa. Io amo il friuli Venezia Giulia, io resto a casa. Io amo il friuli Venezia Giulia, io resto a casa. Amo il friuli Venezia Giulia, e anch'io resto a casa. Io amo il friuli Venezia Giulia, io resto a casa. Io amo il friuli Venezia Giulia, io resto a casa. Mamma! Compi anche tu un gesto d'amore. Resta a casa. Confindustria Udine acquista e distribuisce mascherine chirurgiche all'impresa. E' iniziata lo scorso lunedì la consegna di una prima tranche di 20.000 pezzi, altri 60.000 verranno consegnati venerdì, mentre la prossima settimana ne arriveranno altre decine di migliaia che saranno gradualmente distribuite alle aziende del territorio. L'ha comunicato la stessa associazione degli industriali friulani attraverso una nota. Vista la difficoltà a reperire sul mercato questi presidi sanitari, commenta la presidente Anna Mareschi Danieli, Confindustria Udine si è mossa in prima persona sfruttando i canali di approvvigionamento di alcune grandi imprese, fungendo in pratica da centrale di acquisto. Li acquistiamo noi e poi procediamo con la distribuzione a seconda delle esigenze a prezzo di costo. La presidente ha poi reso noto che l'associazione degli industriali della provincia di Udine ha cominciato a distribuire alle imprese anche forniture di gel igienizzante. Solo con un consistente taglio delle tasse per tutte le imprese possiamo salvare l'economia italiana colpita dall'emergenza coronavirus. Il sistema paese ha sempre retto grazie alle aziende non certo per la sua stabilità finanziaria. Anche gli investitori hanno continuato ad acquistare il nostro debito pubblico perché siamo la seconda manifattura d'Europa. Se uccidiamo le imprese, uccidiamo il sistema paese. Lo ha ribadito il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante l'incontro in videoconferenza organizzato da Ambrosetti Club, la piattaforma permanente creata da The European House Ambrosetti per offrire spunti e promuovere cambiamenti concreti all'insegna di una cultura pro-business, pro-industry e pro-innovazione. Sono fiducioso, ha aggiunto Fedriga, che riusciremo a superare l'emergenza sanitaria in un paio di mesi. L'impatto dell'epidemia di Covid-19 sui cittadini e sul tessuto imprenditoriale durerà invece almeno un anno, modificando profondamente i comportamenti sociali. Chi saprà intercettare le nuove esigenze delle persone e delle aziende avrà grandi opportunità di sviluppo. E' atterrato ieri sera in Friuli Venezia Giulia un elicottero che ha effettuato il trasporto di un paziente Covid-19 proveniente dall'ospedale di Bergamo, dove, come noto, i posti letto in terapia intensiva sono esauriti. L'equip sanitaria Lombarda è stata assistita al suo arrivo dall'elisoccorso del Friuli Venezia Giulia sotto il coordinamento della Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria Sores ed è stata trasportata all'ospedale di Udine. Il Friuli Venezia Giulia ha offerto la propria disponibilità ad accogliere presso le proprie terapie intensive questa paziente, la quarta proveniente dalla Lombardia, ha confermato il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Il trasporto è stato effettuato da un elicottero AV139 con a bordo un'equip medico-infermieristica appartenente all'elisoccorso di Como, che ha assistito la paziente in condizioni critiche e sottoposta a ventilazione meccanica, che per maggiore sicurezza è stata posizionata all'interno di una barella ad alto biocontenimento. Questo strumento, ha spiegato il responsabile del soccorso regionale Giulio Trillò, di cui dispone anche la nostra regione, consente di aumentare la sicurezza del personale sanitario, isolando il paziente contagioso dall'ambiente esterno. In chiusura a uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Sul Friuli Venezia Giulia oggi cielo in genere variabile, con maggiore nuvolosità localmente in montagna e più sole verso la costa, dove soffierà vento sostenuto di Bora. Vento da nord-est sostenuto e freddo in quota in montagna, moderato in pianura e nelle valli. Possibile qualche debole precipitazione, più probabile in montagna, con quota neve sui 500 metri circa. Non si esclude qualche debole precipitazione anche sul Carso. Domani cielo coperto con vento in genere sostenuto da nord-est, forte sulla costa, specie a Trieste, con raffiche oltre i 100 km orari. Possibile qualche debole precipitazione, più probabile in montagna e sul Carso, con quota neve intorno ai 500 metri circa. Passiamo al Veneto. Variabile con schiarite anche ampie e nuvolamenti che saranno maggiori sulla pianura meridionale, sulle zone montane nel pomeriggio. Domani nuvoloso o molto nuvoloso. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e ARPA, l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto. Appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.